Buonasera a tutti, sono Luigi Onerac, se preferite bentornati su questo nuovo video Scusate per il ritardo, eccoci qua all'ESA della Canada Family Senza gli altri ESA lo divido in due fight che vedrete di fila In questo video in quanto ho visto che alcuni hanno un po' di difficoltà a capire come funziona Saltiamo la fight iniziale contro Goten, semplicemente perché è una versione molto più scarsa di Goku Ma passano le auto Ed eccoci qua contro Gohani, il team che utilizzeremo per entrambe le battaglie è un Movie Bosses Senza LR, quindi alla portata di tutti Vi aggiungo che è fattibilissimo l'evento anche se non avete Tharles Ho finito lo stage 30 utilizzando un Tharles mio con Rosè a Gelli amico Quindi capite che non ce l'ho molto Puoi tranquillamente utilizzare un Rosè a Gelli leader, Tharles amico, i danni li fate In questa versione di nemico, ovvero contro Gohan, farete un po' meno danni Rispetto a quanti ne vedremo contro Goku In realtà contro Goku un Tharles Ability 1 arriva a fare un buon numerino di danni Ma non è eccessivamente difficile Ha una Redaction Gohan Non tanto alte Ha sui 5 milioni di vita circa Perché sui barre non sono proprio un milione I PG danni utilizzati sono Allora in questo caso Doppio Tharles Per il team veloce Janembes TR Che ragazzi non abbiate paura di usarlo solo perché i nemici Fanno danno molto più alto Ai non Movie Bosses Non GL e altro Tanca che è una meraviglia Evade che è una meraviglia E fa qualche dannino Niente di eccezionale Ma fa danno Come ulteriore tank ho messo Golden Freezer Tech Niente Vabbè che avevo doppio Tharles in tuono Unite forse mi fa quasi 2 milioni però Ed è Ability 2 o 3 Il mio Janemba Non è Ability Full Il mio Tharles è Ability 1 Il Tharles Amico era Ability Free Ok Golden Freezer Tech Che serve sia Per un ulteriore tanking Come vedrete in Abba da contro Goku Non sono mai 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 Calato E infine Abbiamo Cooler Che avremo uno scambio Nella seconda battaglia Toglierò Cooler E Biobroli Qua ho messo Biobroli Giusto perché non sapevo Che cavolo mettere E volevo mettere un PG Per vedere che davvero La potete fare anche con Molte PG Con alcuni PG Free to play Cooler Per far danno Ma lo scambierò Nella fase 2 Con la GL Per massimizzare il danno Che riusciamo a infliggere In questo caso Come avete visto C'è anche il nostro Carissimo Biobroli Che non serve Tapion Ragazzi Tapion Molto importante Non succede nel video Quindi Non ve lo riesco a mostrare Ma nel momento In cui Tapion Diventa Hildegarn Il nemico Viene pressa Poco Sciottato Sciottato davvero male Cioè Gli fate danni Che non sono davvero Un'intera Ringrazio Per quest'info Feliciano Che me l'ha detto oggi Perché Da lui Si è trasformato E Si è visto quindi Quanti danni Arrivava a fare Hildegarn L'ultimo PG Invece Fatemi aprire La run Contro Goku Perché Vi dirò A memoria Non ricordo L'ultimo PG Chi è l'ultimo PG Che ho messo Ah Broliesa Broliesa Lo sto Valutando davvero bene Come PG In generale In realtà Non esclusivamente Per valere come queste Dopo la special Anzi no Più in generale Dopo che attacca Ragazzi Non ce n'è per nessuno Non subisce danno Quindi Potete usare tranquillamente Naturalmente Non è l'unico team Lo fate addirittura Con un Resurrected Vi dico Se giocate Resurrected Potete riuscire a farlo Perché avrete Un bel boost Ad alcuni PG Che sono sia Resurrected Che Movie Bosses Quindi Potete farcela Potete farcela Anche con un Extreme Agile Semplicemente Ho notato che Movie Bosses E' il team Che mi permette Di subire Meno danno Facendone di più Perché Extreme Agile Comunque Subisce Tanto Ho perso Allo stage 24 Con Extreme Agile Perché Vabbè Ho giocato Al cavolo Perché pensavo Di fare Auto win Però davvero Ho perso E da quello Stage Ho capito Che Volevo vedere Un attimino Come si muoveva Il Movie Bosses E si muove Da dio Detto questo Ragazzi Io vi lascio Al resto Della run Noi ci vediamo Penso Subito dopo Questo video Poco prima Con Un bel Doca news In cui parliamo Di tutte le novità Che stanno Parando nel global In quanto C'è davvero Tanto da dire Quindi un grazie Ancora A chi mi segue E noi ci vediamo Al prossimo video 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 Al prossimo video